Come sarà la nuova rete Iliad? Sembra che il gestore francese stia accelerando per accendere la propria infrastruttura e intanto continua a conquistare clienti. Prima di parlarvi della rete però, alcune notizie delle ultime ore che riguardano proprio Iliad. Il gestore francese ha raggiunto quota 2.223.000 clienti. Il dato è aggiornato a settembre 2018 ed è stato diffuso dalla stessa Iliad. La compagnia telefonica ha reso noti anche i risultati di una ricerca sulla popolazione secondo la quale 4 persone su 5 conoscono il brand Iliad. Quindi, stando a questi numeri, è un successo l'arrivo dell'operatore francese che ha debuttato in Italia il 29 maggio scorso. Intanto Iliad ha prorogato a tempo indeterminato la sua attuale offerta a 7 ore e 99 al mese che offre 50 giga, minuti ed sms illimitati verso l'Italia e minuti illimitati verso 60 destinazioni estere. Se prima questa tariffa era riservata alle prime 500.000 nuove attivazioni adesso sul sito si legge che l'offerta continua senza specificare alcuna scadenza anche se è ancora disponibile l'offerta a 6,99 euro che però offre 40 giga. Intanto la concorrenza contro Iliad continua ad essere molto agguerrita solo per fare un esempio, Omobile, che è l'operatore virtuale di Vodafone ha lanciato recentemente una tariffa che a 4,99 euro al mese offre 50 giga, minuti ed sms illimitati. Un'offerta dedicata proprio ai clienti Iliad che vogliono passare al gestore virtuale di Vodafone. Iliad al momento non sembra voler rispondere a questo attacco e chissà se lo farà successivamente, se tornerà ad abbassare i prezzi cosa secondo me molto improbabile oppure se punterà ad aumentare i giga disponibili nelle sue offerte. Nonostante gli ultimi risultati raggiunti in termini di popolarità sembrerebbe che rispetto alla fase di lancio molti più utenti si lamentano della qualità del servizio offerto. sui social si leggono infatti parecchi commenti di gente che lamenta di servizi soprattutto nella connessione in 4G o in 3G. Iliad continua ad appoggiarsi alla rete 2G di Wind, il roaming e in run sharing sulla rete 3G e 4G di Wind 3 ma le cose potrebbero presto cambiare. Iliad infatti si sta preparando ad accendere la propria rete. A conferma di ciò è il fatto che il gestore francese sul suo sito internet ha pubblicato numerosi annunci di lavoro per ricercare tecnici di rete quindi tecnici che si occuperanno dell'infrastruttura dell'operatore. Iliad intanto sta continuando ad installare le sue antenne nelle grandi città e nei capolughi di provincia ovviamente per raggiungere l'intero territorio nazionale ci vorranno diversi anni. Ma come sarà la nuova rete Iliad? Stando alle frequenze assegnate Iliad non avrà innanzitutto una rete 2G quindi si presume che continuerà ad appoggiarsi roaming 2G su Wind perennemente nelle zone dove non ci sarà copertura 3G o 4G. Voi potrete obiettare naturalmente il 2G può essere utile perché ha una capacità di penetrazione maggiore all'interno degli edifici e riesce a raggiungere aree isolate lontane dai centri abitati dove per esempio le tecnologie 3G e 4G hanno difficoltà ad arrivare. Per quanto riguarda il 3G Iliad avrà una porzione di frequenza a 5 MHz nella banda a 900 MHz e una porzione a 10 MHz nella banda UMTS a 2100 MHz. Discorso diverso invece per il 4G Iliad non avrà la banda B20 a 800 MHz quella che serve a raggiungere le località più distanti con il minor numero di antenne avrà invece la banda LTE a 1800 MHz e a 2600 MHz frequenze queste che consentono di navigare veloci su internet ma in un raggio di territorio ristretto di alcuni chilometri quindi per implementare la sua rete Iliad avrà necessità di un maggior numero di antenne. Quindi Iliad sembra puntare molto sul 4G però potrebbe rimanere ancorata ancora per molto a Wind che gli garantisce sia il 2G sia il 3G e il 4G nelle aree nelle quali Iliad non ha le sue antenne. Infatti se l'operatore francese dovesse accendere domani mattina i suoi impianti sicuramente non riuscirebbe a coprire l'intero territorio quindi c'è ancora necessità di appoggiarsi all'operatore Wind 3. Le antenne comunque che sta installando negli ultimi mesi sono predisposte per il 3G e il 4G quindi ancora non sono pronte per il 5G. Il 5G Iliad invece ha un buon pacchetto di frequenze e ha anche la frequenza 700 MHz che consente di raggiungere distanze maggiori frequenza che non ha invece Wind quindi chissà se ci sarà se ci potrebbe essere un accordo tra Iliad e Wind per una reciproca collaborazione per le frequenze e la copertura è solo un'ipotesi staremo a vedere quello che succederà in futuro. Fatemi sapere nei commenti se state notando dei miglioramenti o dei peggioramenti con la rete Iliad se siete clienti del gestore francese se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per ricevere tutte le notifiche grazie e alla prossima!